Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Jackface, io sono Jason e oggi voglio fare la reaction di un trailer per un sito che racconta l'origine di forse al ricuaglio di non aprite quella porta. Sono esaltato e voglio vedere che cosa hanno combinato e ora partiamo spesso con la Rex. Iscrivete al nostro canale, mettete in piacere e commentate cosa vi è pensato del trailer e della Rex. Andiamo un attimino. L'atmosfera non è male. Non è male per niente l'atmosfera. Scusate, problemi. Questo qua è l'interface. Sì, direi proprio di sì. Perché racconta l'origine da quando è bambino. L'avevamo già fatto con una vita per la porta all'inizio, ma all'inizio raccontavano già lui quando era grande. Comunque è bello, bella l'atmosfera. Questa è bella, accidenti. Burka. Madonna. Mi, ma che atmosfera. Finalmente un uomo serio. Speriamo che sia veramente così. Bello veramente. Quell'atmosfera è stata tutta. L'inizio del monsacro, naturalmente. Qua spavano tutti. Cosa? Minchia. Minchia. Madonna. Bellissimo. Bellissimo. Ragazzi, è bellissimo. Io non vedo l'ora di andarlo a vedere. La rexon finisce qui. Noi ci vediamo alla prossima rexon. Ciao a tutti. Qui da Cesar, la Sarkface. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.